story time evoluzione radio amici ascoltatori ben trovati in compagnia di giallo calosco questo è story time sul radio italia 5 noi siamo pronti a raccontare un'altra delle nostre belle storie allora io do subito il benvenuto al nostro ospite edoardo dinelli ciao ben trovato ciao ciao ben trovate a voi allora ben trovato o potrei dire ben ritrovato comunque ti abbiamo già avuto ai nostri microfoni comunque ovviamente per riallacciarci a tutto quello che ci hai già spiegato ecco invece in questa altra intervista parleremo anche dei video musicali sì allora io come compositore scrivo musica di conseguenza a un certo punto mi piace poi costruire un video che mi aiuti a veicolare la musica che scrivo così come tanti montatori usano la musica da montare sulle proprie immagini da allineare le proprie immagini sincronizzare le proprie immagini mi piace fare il contrario immagini esatto esatto che poi alla fine finisce che si veicola un prodotto multimediale che parla la stessa lingua e mi piace proprio fare così io di solito vado su portali che offrono video gratuiti o più o meno gratuiti e poi li monto insieme cercando di raccontare una storia che si allaccia al tema che tratto in quel video le certo ecco quindi a seconda appunto della tipologia di di musica ecco possiamo ritrovare ecco di video molti diversi fra di loro sono video che partono da un tema per esempio partiamo da dal il primo rise sorgi in italiano è un video che praticamente parla della ricostruzione di se stessi dopo che un ambiente diciamo lavorativo un ambiente familiare o comunque un ambiente in generale tende in maniera anche più o meno violenta a cercare di distruggere quello che sei e quindi manipolandoti svalorizzandoti svalutandoti ecco in questo video cerco di ho descritto un po quella che un po è stata una mia esperienza personale ho cercato di descrivere la ricostruzione che io ho fatto dopo questa situazione nella speranza che questo possa essere d'aiuto a tutti quelli che si sono trovati o si trovano in situazioni analoghe sì in situazioni analoghe esatto dopo rise c'è this is my letter to the world is my letter to the world è tratto da una poesia di emily dickinson che come sapete emily dickinson ha passato praticamente tutto la sua adultità la sua vita d'adulta reclusa in una stanza comunque in casa sua e in questa lettera lei proprio dimostra in questa poesia lei dimostra proprio tutta la sua emancipazione dicendo questa è la mia lettera questa è la mia lettera al mondo che non mi ha mai scritto e io ho cercato di sdrammatizzare questa cosa mi sono immaginato emily dickinson adesso dopo tutto questo tempo dopo tutta questa lunga emancipazione e ho detto senti a un certo punto sai che c'è comunque vada ci sono tanti modi poi alla fine per sdrammatizzare io nel video ho scelto quello che mi piace di più e cioè la il ballo la danza perché alla fine abbiamo sperimentato tutti no quando siamo stanchi quando abbiamo voglia di dare un colpo di pennello comunque di cambiare capitolo ballare è sempre qualcosa che ci fa stare meglio è un'attività che poi ha sempre a che fare con la musica esatto si cerca di unire le due le due cose e per quanto riguarda gli ultimi video che ho fatto voglio chiudere semplicemente con questi due perché ci tengo in particolar modo una music box su praticamente riscaldamento globale quindi è un video che racconta le vicende parte con questa visione idilliaca della natura che si esprime in tutti i modi e poi con l'arrivo dell'uomo la natura si ritrae e il pianeta a sua volta è come se tornasse usato proprio questa tecnica mandando il video all'indietro è come se lentamente si ritraesse e con l'arrivo degli esseri umani il pianeta viene sommerso di plastica e non solo quindi è un video che apparentemente sembra molto positivo ma siccome la situazione è tutt'altro che positiva alla fine vuole lasciare con l'amaro in bocca e l'ultimissimo 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 è Shell I compared it to a Summer's Day che ho fatto costruendolo da zero su un sonetto di Shakespeare dovrei forse paragonarti a un giorno d'estate per arpa, flauto e canto tra l'altro verrà pubblicata a brevissimo da Da Vinci Publishing, le partiture è un video a cui tengo in particolar modo perché le riprese le ho fatte tutte da solo nell'isola in cui vado di solito a cui mi capita in Grecia, Donussa, di andare a rilassarmi l'unica isola in realtà è dove riesco a rilassarmi è un video dove mi sono avvalso dalla collaborazione di Tommaso Lanza, Lato come artista che ha costruito una serie di immagini sui video che ho fatto con il mio telefono laggiù su questa isoletta e poi ho creato l'animazione quindi il risultato è stata una carrellata di foto animate che in realtà sono video con questi personaggi che si interse che non si animano perfettamente su quelle immagini ecco questo è stato il video più grande, quello più difficile, quello che mi ha fatto sputare non poco sangue questo dimostra insomma come la tua vena artistica la possiamo ritrovare assolutamente rispecchiata dalla musica anche in questo lavoro sia di foto ma anche di montaggio insomma perché prima parlavi del video mandato al contrario per far avere l'impatto quindi insomma sicuramente un bel lavoro allora Edoardo io ti ringrazio nuovamente grazie a te per aver scelto i nostri canali per condividere tutto questo voi amici invece rimanete appunto su Radio Italia 5 perché ancora molte storie vi attendono un saluto a tutti quanti Storytime Evoluzione Radio